Non si ferma la solidarietà dei cittadini di Manduria e delle associazioni locali al popolo ucraino in guerra contro la Russia. Si moltiplicano giornalmente i contributi in prima linea tra raccolta di viveri e ospitalità, tra queste l'Istituto Belisario Arnò, la Proloco di Manduria, gli istituti scolastici dalle Naudi alla Michele Greco, l'Ordine Francescano, ma anche la Tana del Folletto e singoli cittadini come Tony De Mauro. Abbiamo incontrato alcuni di loro. Sono la responsabile dell'Istituto Belisario Arnò e in seguito alle notizie che abbiamo avuto in questi giorni della guerra in Ucraina non si poteva rimanere indifferenti di fronte a questa grandissima tragedia. Allora ci siamo cercate di appoggiarci alla Caritas di Erche, di poter anche noi dare una mano concreta verso questi bambini. Tutto quello che abbiamo raccolto andrà verso le suore delle missionarie del Santissimo Sacramento, ai quali stanno prendendo i profughi che stanno arrivando dall'Ucraina, appoggiandoci a livello materiale. Gli alimenti per i bambini, perché ci sono tanti bambini piccoli, ma questo non basta. Ma bisogna anche pregare e sostenere con la preghiera queste persone affinché possono superare questa grande difficoltà. Ci sono degli amici e dei soci che vorrebbero di fatto ospitare, avere la possibilità di ospitare dei profughi in casa, aprendo la propria porta di casa, gratuitamente. Sappiamo che siamo in uno stato di emergenza fino al 31 dicembre. Fino ad allora, se vengono dei profughi, comunque le prefetture devono organizzarsi con i comuni per creare dei centri di accoglienza straordinaria. E quindi ci servirebbe che il comune, in particolare il sindaco del comune di Manduria, si faccia carico di questa istanza e che dica al prefetto che c'è anche questa disponibilità. Comune di Manduria che risponde con una fiaccolata per la pace questa domenica in piazza Garibaldi. Quel campo di accoglienza sulla via Veroria per noi è stata una ferita, è una ferita ancora aperta. Ci ha trovato imprimarati, ci ha trovato imprimarati anche come associazioni. Non vogliamo che ne succeda quello.